Ma che faccio il reportaggio? Da parte il signore a prendere la... Sì, non è che si vede... Ma avete chiamato i vici? Chiamati chi? Arriviamo subito? No, ho detto che adesso segnalavano e erano fuori... Ma io però... Cresceremo di poter vedere lì Eh, anche io, anche... Anche io però telefonavo... Gillo in piazza, non è andato per... E questo è... Si ha telefonato... Si ha telefonato... Sì... 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 Sì...